Nella notte tra mercoledì e giovedì, i gnoti si sono introdotti all'interno del bar e sito all'interno dell'ospedale di Cattinara. Dopo aver scavalcato una paratia di un limitrofo esercizio commerciale, vi si sono introdotti e hanno asportato dai cassetti dei due registratori di cassa complessivamente 300 euro in contanti. Hanno peraltro anche tentato di forzare una cassaforte posta nella parte retrostante al bar. Ad accorgersi dell'intusione è stata nella mattinata di giovedì una dipendente che ha prontamente chiamato il 113. Sul posto un equipaggio della squadra volante e la scientifica per i rilievi.